A presentare l'esposto in questura a Lecco sono stati i genitori accompagnati dalla zia del piccolo. Una sola domanda, perché è morto? Perché si è spento a soli 18 mesi stroncato da una febbre fortissima dopo una breve esistenza assegnata dalla malattia? E ora la procura indaga per comprendere se possono esserci state inadempienze e se la vita del bimbo poteva essere salvata. Originario di Cuneo, aveva solo un anno e mezzo. Si è spento nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Manzoni di Lecco le condizioni del piccolo, proveniente dal centro riabilitativo Eugenio Medea della nostra famiglia di Bosisio Parini dove era in cura e dove si era aggravato, sono diventate disperate fino a provocarne il decesso domenica notte poche ore dopo il suo arrivo al Manzoni. Il bimbo a Bosisio aveva intrapreso un percorso di riabilitazione motoria per una cerebrolesione acquisita non congenita ma dovuta a un'encefalite. Provocata da cosa non si sa e anche su questo aspetto i genitori vogliono sia fatta chiarezza. Nelle prossime ore l'autopsia eseguita dal medico legale nominato dalla procura sono state acquisite tutte le cartelle cliniche. L'indagine dovrà stabilire le cause della morte del piccolo.